Attraverso il suo legale di fiducia, l'avvocato Calogero Vetro ha deciso di ricorrere al riesame e chiedere la scarcerazione. Parliamo dell'anziano favarese Vincenzo Galiano, accusato e reoconfesso dell'omicidio del compaesano Baldassare Contrino avvenuto a colpi di pistola. Il fatto è successo alle prime ore del 2 luglio scorso in Via Felice da Sambuca, incontrata a Caltafaraci tra Agrigento e Favara. A inizio mese il GIP del Tribunale d'Agrigento, Alessandra Vella, aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il 79enne. Ancora non chiaro il movente del delitto, ma pare che tra i due nel tempo fossero sorti dei dissapori. Per l'avvocato Vetro, Galiano avrebbe sparato per difendersi dall'aggressione del 73enne. Ad entrare subito in azione sono stati i militari del nucleo operativo della compagnia di Agrigento e quelli della tenenza di Favara, la cui capillarità nel territorio e l'ottima conoscenza delle dinamiche della città sono state determinanti per la velocità di esecuzione e l'efficacia dell'operazione di identificazione del presunto autore. Grazie Grazie Grazie